ciao ciao a tutti benvenuti in questa direttina dove voglio parlarvi del funnel di facebook però in realtà sto anche testando quest'orario per vedere quanto engagement c'è per vedere soprattutto ho provato a non utilizzare il programmino che utilizzo di solito perché voglio vedere voglio testare l'engagement se cambia quindi utilizzerò questa questa diretta anche per fare appunto questo tipo di test perché voglio anche vedere se arrivano le notifiche di diretta quindi in realtà ne approfittiamo per fare due chiacchiere e intanto controllo come va se l'engagement pompa e soprattutto se mi conviene utilizzare questo tipo di di diretta senza il banner oppure utilizzare il software che che ho di solito ragazzi bene ciao tanto che arriva qualcuno oggi senza il banner mi trovo spaesato mi sentite comunque per chi è connesso intanto vediamo e aspettiamo un attimino questo orario pare essere migliore non lo so vedrò vedrò ho intenzione di fare come già dicevo nell'altra diretta una trasmissione serale dove parliamo di marketing di funnel di facebook e di social media ovviamente e di farla di sera in qualche trasmissione tempo fa ho detto che non mi piace la parola funnel no però effettivamente rende l'idea quindi il funnel facebook cos'è come funziona come facciamo a impostarlo e soprattutto come faccio a farci grana ok aspetto sempre qualcuno che mi dica se si sente nei commenti perché non ne vedo ok si sente ciao ciao francesca ok bene funnel facebook ok cos'è in sostanza il funnel è un processo che tu utilizzi per portare il tuo potenziale cliente il tuo potenziale spettatore il tuo pubblico da un punto a a un punto b ok facendo di fare determinati passaggi quello che io solitamente chiamo fare flipping è un discorso differente cioè porto il potenziale pubblico da un punto dall'altro ma facendolo uscire tipo da facebook lo porto alle mail dalle mail lo porto in studio da me dallo studio lo porto gli porto a casa gli invio del materiale cartaceo dal materiale cartaceo gli porto lo porto a sul mio sito web gli do un'area riservata dove può controllare i suoi materiali quello è fare flipping ok il funnel invece il percorso che deve fare per educarsi a comprare quindi sono strettamente legate le cose però segui bene nei ragionamenti che ti faccio capire meglio un funnel cos'è il funnel si imposta per fare un percorso educativo che porta una persona che non ti conosce a comprare da te a diventare cliente ma soprattutto a ricomprare da te a diventare fama andandoti referral ok lo scopo del marketing è portare una persona perfettamente sconosciuta a comprare da te e soprattutto a ricomprare e a portarti referral cosa sono e referral sono quando ti dicono guarda le referenze guarda mi ha portato questa persona qui e via dicendo per dirti nel settore odontoiatrico dove lavoro parallelamente a questo canale è una cosa molto importante sono molto importanti perché sono importanti perché capirai che un referral è in completa assenza di marketing ovvero se io devo fare una fatica micidiale per educarti a comprare un mio prodotto quindi per portarti dentro il funnel quando una persona arriva tramite la referenza quindi tramite un referral tutto quel lavoro di marketing non c'è più perché praticamente come se ti avessero consigliato e quindi tu risparmi tempo risparmi denaro e siamo tutti più contenti benissimo allora come si imposta un funnel su facebook intanto vedo che qualcuno si sta connettendo ci facciamo due chiacchiere è una diretta improvvisata sto controllando se a quest'ora l'engagement si pompa di più ciao francesco e sto facendo dei test intanto parliamo di facebook parliamo di funnel di facebook ok cos'è un funnel di facebook è semplicemente il percorso che tu fai a fare dentro il dentro facebook per educare i tuoi potenziali clienti guarda quello che faccio io io faccio parecchie dirette adesso con la media di uno al giorno faccio video faccio post scrivo email e tutto però per quanto riguarda facebook cosa faccio questi video educativi sono un funnel che ti portano a lasciarmi la mail tra l'altro adesso metto anche il mio bel linkino per fare il corso gratuito dal corso gratuito ti ho spostato da facebook sul mio sito quindi sulle mail marketing e da lì ti faccio poi la promo per comprare il mio primo corso e poi pian piano ti porto a comprare i corsi più costosi ai ticket che sono quelli da 1000 euro quindi vediamo un attimino di metterti anche il link così ce l'avete tra l'altro avete fatto il corso gratis non avete fatto niente pelandroni che non siete alto ok lo metto qua potete spararvi questo bel corsicino a gratis lo metto in alto seguitelo perché è molto divertente alla fine vi arriva la promo certi mi dicono marco ma perché tu dici subito che ci sarà una promo perché questo non potrebbe dar fastidio ai tuoi potenziali clienti allora in realtà no ragazzi non dà fastidio perché se io ti dico subito che questi video che stiamo facendo sono educativi ok danno un valore da un sacco di valore ok perché tanto potete dire quello che volete ma comunque chi parla di questo argomento che fa video non trovate nessuno quindi io vi do questo valore aggiunto ma giustamente se poi ti faccio credere che tutto questo sia gratis che non ci sarà mai niente che non ti chiederò mai un soldo nella vita io non riuscirò mai a chiederti un soldo ti guarda ti ti faccio un esempio molto pratico quando sono entrato nel nel settore odontoiatrico un po di non dico di prepotenza perché la parola sbagliata però in maniera decisa scusate hanno subito cominciato a mettermi i bastoni tra le ruote come era da immaginarsi hanno cercato di spiazzarmi di farmi fuori subito io per fare pr all'inizio come giusto che sia le pr sono quelle cose che ti fa ti rinforzano il tuo brand ok sono molto importanti su facebook è semplice farvi sono andato dal gruppo più grosso di odontoiatri e ho chiesto se fosse stato possibile unire l'energia e fare una joint venture dove io avrei dato la mia disponibilità come le mie competenze per parlare di marketing odontoiatrico ok tutto bello quel gruppo non faceva marketing odontoiatrico io proponevo una cosa in più tutto bello se non che quel gruppo era gestito in maniera strana ovvero era molto grosso ma il proprietario della community quello che stava sopra si è tolto dalla community ha fatto fare tutto a loro ok l'ha dato a loro in completa gestione non gli ha mai fatto capire che prima o poi ci sarebbe stata una vendita quindi cosa succede succede che se tu imposti le cose in quella maniera appena ti azzardi a mettere un piede su fuori della porta di genere ragazzi guarda che c'è questo che dovrei io vendo anche queste cose queste qua ti mandano a fanculo ma non è normale è giusto che sia così è come quando si crea un evento come quando insomma si fa un prelancio devi sempre dire che a un certo punto del percorso ci sarà un'offerta ok prima ti faccio capire quanto valore a questa offerta e poi ti presento l'offerta come nel nel copywriting come tutto quello che si fa in tutti i funnel possibile mangiare tutti i percorsi che tu puoi far fare al tuo potenziale cliente devono avere devi essere molto chiaro devono avere l'avvisaglia che prima o poi si comprerà qualcosa l'errore più grosso che vedo fare è dare 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 gratis dare gratis dare gratis dare gratis dare gratis dare gratis all'ennesima potenza e non dire mai che prima o poi ci sarà qualcosa questo online succede molto e non funziona ok quindi me l'hanno chiesto perché ti rispondo qui è giusto è giusto che io ti dica che io venda io sono qua per vendere ragazzi è come siete voi qua state ascoltando me perché vendete l'ho detto mille volte non prendiamoci per il culo siamo tutti qua per fare grana e per fare grana con i social quindi con il marketing bisogna mettersi lì e avere il rapporto col denaro giusto anche nei confronti delle altre persone quindi non è una questione di arroganza e vedi che mi devi dare i soldi è una questione di essere etici te lo dico subito quello che succederà nell'educazione che ti faccio ti farò capire che prima o poi c'è un corso da mille euro da comprare questo è il mio target ok bene ci siete sentite come state questa com'è come orario per sentire le dirette vi piace o è un orario scomodo anche non l'ho avvisata però devo capire se il buon facebook a quest'ora mi pompa di più il engagement mentre le dirette che faccio ovviamente le faccio anche perché mi pompano l'engagement della pagina a differenza dei video quest'anno ho cambiato molto quindi dirette ne ho sempre fatte tante anche l'anno scorso quest'anno continuo a fare le farò un po' di più un po' meno video montate un po' più dirette ok quindi allora avete qualche domanda mi dite se l'orario è buono secondo voi intanto come si imposta comunque il funnel di facebook la prima cosa che devi pensare è ovviamente che idea soluzione tu puoi dare al tuo potenziale cliente quando parlo della big idea è quella cosa che tu prendi e dici ok per un determinato target questa è una soluzione fantastica quindi c'è mercato se c'è già un mercato è meglio perché attenzione se nessuno vende una cosa probabilmente c'è un problema di mercato quindi è possibile che il mercato non sia pronto ok c'è una cosa che non esiste ancora come tutte le invenzioni si dice che gli inventori muoiono di fame c'è un motivo se viene detto questo perché perché quando una cosa non è ancora pronta per il mercato è probabile che non si riesca a vendere bisogna educare al mercato ci va un sacco di tempo steve jobs per dire non ha inventato nulla lui ha solo preso invenzione degli altri ci ha fatto un marketing della madonna e alla fine i risultati si sono visti quindi come come è devo avere questa big idea ok non c'è e poi devo individuare il target signori queste cose le avete già sentite ve le ripeto il marketing educativo è anche ripetizione quindi ripetiamo le cose che vanno ripetute magari qualcuno che si è connesso per ultimo non le sa quindi una volta che ho impostato il mio target come come mi rivolgo a questo target devo trovare un format va bene attenzione questo target a quale rivolgo il mio format per mostrare la mia grande idea soluzione a che gradino della piramide si trova cioè a che livello di focalizzazione si trova il target a cui voglio mostrare la mia idea mi spiego mi spiego meglio questa cosa che ha fatto il mio qualche mio corso con me già la sa bene se il mio target non per dire io vendo cibo per cani ok nella base della piramide come vi ho fatto vedere vi farò vedere nel corso gratuito che se ve lo fate anche disegnato mi rivolgo a tutti i proprietari di cani magari della della mia città se stringo la piramide magari mi rivolgo a tutti i proprietari di cani pastori tedeschi ok oppure sotto quella quella piramide quindi nel bradino ancora più in basso ci sono tutti gli animali devo sapere esattamente a quale livello fatevi il corso perché è divertente cioè schematizzato è un po' più semplice da capire a che livello della piramide devo rivolgermi per dire io con i dentisti non sono andato a livello ultra focalizzato perché come dico sempre ultra focalizzati è sbagliato ultra generalisti è sbagliato bisogna capire quale livello di dulitz di di stavo per dire una parola che non esiste però quanto devo diluire ok il mio target per andare a mostrargli la mia offerta va bene per fare questo devo utilizzare un format il format potrebbero essere queste dirette e devo utilizzare ovviamente degli ingredienti in queste dirette non guardare adesso che sto parlando in maniera cioè sono eloquente e alla fine lo faccio perché mi viene spontaneo però bisogna capire anche qual è lo scopo del format quindi c'è tutta una serie di cose da fare fatevi il videocorso gratuito che è divertente però il funnel serve appunto per portare il vostro sconosciuto potenziale cliente a comprare da voi, ricomprare e diventare vostro fan devo impostarlo cioè devo fare un processo educativo per far sì che questa persona faccia questo e non importa che lavoro voi facciate ok sono in tutti tanto mi sa ragazzi se è che non vedo i commenti mi piaceva di più l'altro non importa che lavoro voi facciate qualsiasi lavoro voi facciate qualsiasi business voi avete per mano comunque il discorso è sempre quello l'educazione alla vendita c'è anche chi utilizza il web, i social come vendita flash gli flash sales ovvero una vendita diretta molto fredda però non funziona su facebook ok per fare quello bisognerebbe fare tutto un altro giro Francesco dice sono a lavoro ma di sabato comunque è tranquillo l'ideale sarebbe dalle 14.30 alle 15 per te ok Francesco terremo a mente mi sto divertendo comunque a fare queste dirette è proprio una cosa che mi piace però mi sembra che non so voi cosa ne dite ma in questo modo cioè utilizzando facebook direttamente dal desk del pc non mi faccia vedere bene i commenti vabbè comunque stiamo parlando di funnel facebook e di come impostarlo ho già detto più di una volta che non mi piace la parola funnel perché adesso parlano tutti di funnel è diventata una rottura di coglioni senti solo gente che parla di funnel funnel di qua funnel di là però effettivamente mi sono accorto che a livello comunicativo la parola funnel rende bene l'idea quindi parlare di facebook funnel ok sono un pioniere a dire questa parola rido perché qualcuno oggi mi ha accusato di plagio però vabbè ragazzi cosa ci possiamo fare ahimè sì faccio outing sono un plagiatore difatti ho copiato tutto tutto quello che solo ho copiato e non ho nulla di mio sono solo un ladro quindi un truffatore non ascoltatemi più va bene dicevo funnel facebook è comunque quello che rende bene l'idea ovvero utilizzo i social per portare un perfetto sconosciuto a comprare i miei prodotti o servizi ricomprarli e soprattutto farmi da fan anche perché a volte si scorda questo passaggio ma tu quando lavori ci pensi che le persone oltre ad aver comprato una volta quindi da acquirente devono diventare cliente poi devono diventare fan cosa utilizzi per portare le persone a fare tutto questo ci sono varie cose tra cui comunque dunque sempre il marketing educativo perché non ci dimentichiamo che il funnel è educare le persone a comprare ricomprare e diventare fan va bene quello che si può utilizzare facebook oggi ci dà la possibilità di buttare quattro spiccioli e fare questo questo percorso è bellissimo perché guarda ti bastano pochi euro per raggiungere un pubblico in target e fargli capire quello che tu vuoi va bene niente allora mi sembra che che l'orario sia abbastanza buono non mi piace molto farlo direttamente dal desk mi piace di più quando c'è il il mio programmino be live ok bene avete qualche domanda ragazzi se no ci salutiamo era solo ovviamente ciao claudia tanto che non ci vediamo fa piacere vederti stavo raccontando appunto come impostare il funnel e se avete qualche domanda potete dirmelo è il funnel di facebook ovviamente vi ricordo che io parlo per la maggior parte di social social advertising copywriting e adesso mi occupo anche di facebook e di marketing per dentisti quindi in realtà le mie cose sono quelle sono quelle sono sempre state quelle sono vent'anni che faccio questo qui prima di scrivere post in giro dicendo che sono un cazzone che ha copiato andate a guardarvi un attimino quello che è il mio curriculum e tappatevi la bocca va bene? ok ragazzi vi saluto magari domani faccio ancora voglio fare ancora una prova dopo cena ma il videocorso gratis è quello che c'era nel dvd le ads non servono un razzo no 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 praticamente questo francesco questo videocorso smettila di fare le ads che si chiama in sostanza è un precorso per portarti poi a comprare le ads non servono un razzo quindi se hai già fatto le ads non servono un razzo guardatelo se vuoi è molto una cosa per approfondire però comunque il corso il vero corso è quello poi che hai già tu quindi quello più che va più nello specifico ok quello è un precorso poi lo step dopo sarà il corso che sto per tirare fuori che è quello grosso che sarà poi strategia social non per segaioli come l'avevo chiamata prima per ridere ma sarà proprio un bootcamp dedicato con me come di persona dove si parla di impostare tutta la strategia social quindi quella è una cosa un po' più complicata che dura un botto di tempo però sarà il prossimo corso nel frattempo abbiamo da fare i webinar il prossimo webinar che ci sarà è Face Fast che ti spiega nel dettaglio come andare a impostare Facebook per fare le cose senza perdere tempo quindi cose vere applicabili per far funzionare i social senza troppa teoria che non serve a niente quindi premi questo bottone fai quest'altro premi quello fai quell'altro come dico sempre la base del marketing deve essere semplice ragazzi non possiamo inventarci l'acqua calda e l'acqua tiepida ok? dobbiamo fare cose semplici e farle funzionare bene quindi dobbiamo ben chiaro le quattro cose che sono da fare per far funzionare i social poi il webinar successivo sarà Instastart che ti parla di Instagram con il buon Luca Zacchedu dove andremo a vedere il potenziale di Instagram per il business quello che funziona quello che non funziona quali sono pregi e quali sono difetti ok? anche lì cose vere applicabili subito poi il terzo passaggio è poi il check up social fatto direttamente con me va bene? queste sono le cose che saranno fatte un pochettino perché adesso io sono così batto così tanto per queste cose applicabili per queste cose subito vere in realtà questo deriva da una mancanza di mercato è una mancanza di mercato che ho notato e che non ho notato solo io ma chi fa questo mestiere sa benissimo che c'è nel senso che ho visto che la formazione adesso è fumosa e complicata e contorta vuol dire che ci sono troppe cose ok? che vengono dette troppa confusione non si capisce un cazzo bisogna a un certo punto prendere e mettere in ordine le cose io ho fatto un sacco di consulenze private da studenti privati che sono venuti proprio in studio da me gente che faceva anche corsi da 26.000 euro cioè gente che fa girare 50.000 euro l'anno magari di formazione dicendomi Marco aiuto cioè ho un botto di casini in testa non so cosa fare c'è anche delle testimonianze nel mio sito andatevi a vedere marcodore.com non so cosa fare allora ci siamo messi lì e da queste cose ho cominciato a capire che la cosa giusta adesso a mio parere è comunicare e fare in modo che le persone abbiano cose veri e applicabili facilmente subito cioè quelle cose quel 20% che porta l'80% dei risultati poi la complicazione deve venire in uno step successivo quindi nello step 2 andiamo a vedere ok adesso le cose si fanno complicate e andremo a andare a vedere come complicarci la vita in maniera tecnica detto questo sto anche pensando di fare poi una roba non so a quanti possa interessare dovrò fare un po' una ricerca di mercato per il mio target di andare a fare un un corso che parla appunto di come si struttura un sito per fare per vendere videocorsi cioè proprio come fare tecnicamente per creare un sito web che fa membership che fa che dà area riservata per vendere videocorsi come pubblicizzarli e tutta la strategia che ci sta dietro insomma è quello che io poi faccio di lavoro quello che io ho imparato in tutti questi anni che sto facendo adesso che in sostanza io vendo videocorsi e vendo consulenze come si imposta questo business quindi come poter fare consulenze come poter vendere videocorsi non lo so un'idea che mi sta venendo così vedremo tanto perché non ci dobbiamo mai far mancare nulla va bene ragazzi io vi lascerei al vostro sabato sera cosa fate di bello io ne ho ancora qua per un paio d'ore e poi vedo va bene allora vi saluto buona serata a tutti quanti questo orario comunque non mi ha dispiaciuto abbiamo filato liscio una mezz'oretta aperitivo ma adesso c'hai ragione c'hai ragione cosa bevi all'aperitivo Francesco io di solito mi prendo sono un po' esagerato il gin tonic è una cosa un po' troppo forte mi accorgo se no ho il prosecco ecco bevo o prosecco buono o il gin tonic che mi piace va bene c'è qualche domanda volete chiedermi qualcosa su come si imposta nebbiolo e salsiccia di bra ovviamente Francesca Gatto stasera aspirina perché tu hai festeggiato i tuoi 60 anni mi sembra di ricordare vero? è fatto bene però guarda il trucco è questo quando tu bevi tanto automaticamente cosa devi fare è bere di nuovo quindi in realtà se prendi l'aspirina gliela dai vinta non gliela devi dare vinta devi continuare that's it va bene ragazzi ok vi ringrazio di aver ascoltato e vi saluto ci vediamo la prossima buona serata buon aperitivo e mi raccomando nebbiolo e salsiccia di bra a palla questa sera più aspirina con Francesca ciao ragazzi